Ed è sorpasso, sorpassato l'X512, lì c'è un, sembra che è il Mirius, viaggiamo uguale con la velocità, incredibile, quello è il poco 40, anche lì li stiamo recuperando, stiamo andando più veloci noi. Questo è un Salfass 36, anche qui lo stiamo raggiungendo, lì è Duend, Vismara 46. Caminiamo 8 nodi con 11 di reale.